La corsa della Fortitudo finisce sull'inviolabile parchè del Palatrieste. Ancora una volta, l'anno scorso in finale, quest'anno nel penultimo atto, la volata promozione costringe Biancoblu a fermarsi sul più bello. Due anni ai vertici di un campionato complesso come la Serie A2, questo nessuno lo potrà togliere a coach Boniccioli e ai suoi ragazzi e al club. Resta anche il rammarico al contempo, per una stagione regolare in cui ancora una volta la Fortitudo non è riuscita ad avere quella continuità di rendimento che alla lunga ha poi pagato nei play-off, non potendo disputare le partite decisive nel fortino del Paladozza. Trieste va in finale con assoluto merito, dominando una gara 5 molto simile alla seconda sfida del confronto, in altre parole una sorta di non partita. Saranno dunque i Giuliani di Dalmasson ad affrontare la Virtus nella finalissima, giusto così. 44 a 23 a metà tempo, con 13 pale perse e biancoblu contro le due soltanto degli avversari, capaci di distribuire anche 14 assist in soli 20 minuti. All'intervallo la partita non esiste più, anche se poi la Fortitudo, con il suo unico sussulto d'orgoglio di serata, è capace di rientrare a meno 6 a inizio ultimo quarto. A quel punto però, due palle perse banalmente, la ritrovata intensità difensiva di Cavaliero e Soci, ristabiliscono le distanze per la passerella finale dei padroni di casa. Cala il sipario, qualche ora di riflessione, poi si riprenderà a lavorare negli uffici del Paladozza per preparare il futuro. In attesa di sapere quale sarà la formula del prossimo campionato di A2, la sensazione è che la Fortitudo del futuro avrà meno gioventù e più esperienza al potere, perché se è vero che questo rimane il campionato degli italiani e delle giovani scoperte, lo è altrettanto che per centrare la promozione in un torneo che dovesse promuovere una sola squadra su 32 anche l'anno prossimo, servirà non solo più continuità di rendimento, ma anche e soprattutto quell'esperienza che alla contatto è in buona parte mancata non solo nel rush finale. Già la prossima settimana potrebbe essere quella delle prime novità e dei primi cambiamenti.